Ben tornato al nostro osteopata di fiducia, il dottor Gabriele Benedetti. Ben tornato Gabriele, ringrazio anche Gloria, la paziente del dottor Benedetti, perché con il dottor Benedetti quest'oggi parleremo di dolore alla zona cervicale, un dolore diffusissimo. Sono 15 milioni le persone che soffrono di cervicalgia, questo è il termine esatto, ossia dolori, infiammazione alla zona cervicale, ma non vi dovete spaventare perché per fortuna l'osteopatia ci può aiutare e sono tanti italiani che soffrono di questo dolore, ma perché sono così tanti? Per la postura scorretta? I motivi sono tantissimi e vedremo anche nel dettaglio più avanti anche qualche trucchetto per evitarlo e parliamo di cervicale con, vedi, questo modellino che io accompagno a Johnny per vedere proprio come sia un tratto di cervicale, sono 7 vertebre, queste 7 vertebre compongono un palazzo che può muoversi, quindi parliamo di corpi vertebrali, dischi che sono i cuscinetti che devono attutire i vari colpi che noi riceviamo e poi dietro abbiamo i nervi. Quando finiamo per toccare un nervo purtroppo parte il dolore alla cervicale, quindi la cervicalgia. E questo uno dei tanti motivi appunto è la postura scorretta e anche, stiamo leggendo anche dei tipi di giornali, anche il tacco alto, il freddo e poi appunto la cattiva postura, queste sono le cause più frequenti che ci portano a questo dolore. Allora, iniziamo subito a valutare la nostra gloria perché ci sono dei test che dobbiamo fare. Allora, abbiamo dei test, uno molto semplice, ortopedico, normalmente se abbiamo il dolore alla cervicale, Monica sai, basta ruotare leggermente il collo per sentire il dolore che si può irradiare, pensa fino al braccio. Quindi il primo esercizio, il primo test è quello di muovere la testa e percepire fino a che punto gloria sente questo tiraggio dei muscoli o eventualmente la compressione nervosa. Allo stesso tempo sto valutando la sua escursione articolare e percepisco ad esempio che la sinistra si muove un pochino meglio rispetto alla destra. Questo fa pensare che un blocchettino di incastro articolare potrebbe essere ad esempio sulla destra. Anche da giovane, vedi, magari uso troppi tacchi alti, questo è magari una delle cause. Dopo andiamo. Abbiamo poi un altro test invece neurologico che consiste nel creare una flessione anteriore e questo porta ad un tiraggio posteriore del midollo. Ci fosse un'ernia, quindi una discopatia, un qualcosina che tocca il midollo, in questa maniera aumentiamo la compressione e potrebbe aumentare la sintomatologia nervosa che scende lungo. E noi dobbiamo risolvere questo dolore. Ci sono delle nuovissime tecniche. Tu ci farai vedere oggi delle nuovissime tecniche. Alcune esatto, sono inedite e il meccanismo lo vediamo con questo giochettino semplice che sono due vertebrine cervicali, io le metto, vedi, una sopra l'altra. E che succede al collo di Gloria fra un po'? Quello che succederà a lei, abbiamo due vertebre, in questo caso a destra ce n'è una che è incastrata qui e noi andiamo a fare questo sblocco per rimetterla a posto. Carino, allora iniziamo subito con la prima tecnica. Sì, oggi di qui dietro sullo schienato, rilassati. Oggi sono tecniche inedite e abbastanza delicate, quindi ho bisogno di concentrarmi anche io. Allora, tu rilassati. Vedi che sto cercando il punto di blocco. Perfetto. Tu l'hai abbracciata Gloria, ho visto. È un modo per far abbandonare completamente la testa del paziente nel momento in cui tu intervieni su una tecnica così delicata come la cervicale. Il paziente si fida completamente, tu lo puoi cullare e lavori sui vari piani di biomeccanica per poi intervenire sulla testa. E questa è la prima tecnica dolce. La seconda la facciamo sul lettino? La facciamo sul lettino con i piedi da questa parte, passa seduta da questo lato, perché la cervicale ha una sua curva, che è la famosa lordosi cervicale, che non è una patologia, è una normale curva della cervicale. E in base all'altezza, in base ad esempio se siamo sdraiati, seduti in piedi, può cambiare la curva. Quindi cambiano i piani di scorrimento dove io farò scivolare le vertebre per fare lo sblocco. Partiamo con un'altra tecnica. Allora, passiamo alla terza tecnica. Questa è molto delicata, per cui chiederei anche al pubblico silenzio. E non metti di girata che prepariamo la tecnica della sfinge, brava. Eh, perché questa è più delicata e Gabriele c'ha questo silenzio per questa tecnica. Perfetto, poniti qui sui gommiti e rilassati. Perfetto, questa vedi che è una tecnica che... La sfinge, no? La sfinge, esatto. Ricreiamo la sfinge. Questo perché inverte completamente la curva della cervicale, quindi completamente l'opposto rispetto a quello che ho fatto ad esempio nelle altre due tecniche. Brava. Piano piano. Ok. E abbiamo sbloccato in questo modo. Esatto. Ma hai toccato? Che cosa hai fatto? Allora, sto riposizionando questo angolo, tu rilassati. Stai contando le vertebre, non lo so. Allora, brava, te lo faccio vedere un pochettino meglio. Sto praticamente sentendo dove rimane ancora una vertebra spostata rispetto all'altra. Ok? E questo sarà il mio punto di fulcro per poter poi effettuare lo sblocco. Ok. Rilassati perché così concludiamo tutto il trattamento. Lascia farà a me. Bravissima. Morbida, morbida. Ok. Si è sentito. Si sente? Gloria adesso sta benissimo. Sì, come vedi molto elaborata. Abbiamo sbloccato il collo di Gloria, la cervicale meglio. Sì, passa anche seduta. Passando per tutti i punti della cervicale. Gabriele, è arrivata una domanda sulla nostra mail da un telespettatore, Armando da Cosenza, che ci chiede, ho notato che quando guardo la tv sul divano mi alzo sempre con un dolore al collo. Perché? Allora, dipende ad esempio da dove abbiamo posizionato la televisione, ma soprattutto se siamo seduti o sdraiati sul divano. Facciamo vedere un attimino. Mettili sdraiata. Pancia in su. Spesso se noi siamo sdraiati sul divano, potremmo avere ad esempio la televisione da questo lato. Immagina vedere un film di un'ora e mezza in questa posizione, crea il totale incastro della cervicale, che dopo abbiamo fatica, vedi, a tornare in posizione. Mentre invece torniamo seduti. Se fosse un problema da seduti, l'obiettivo sarebbe quello di cercare di avere una televisione che non sia troppo in basso. Perché ogni volta che noi ci troviamo con la testa troppo in basso, creiamo una compressione posteriore. Che poi è l'esempio più classico, ad esempio con il telefono. Hai visto quando noi stiamo molto con il telefono in mano? Questa è diventata una delle principali cause. Facciamolo vedere un attimino. Controllo che non mi stia chiamando mamma, un secondo solo. Tutto a posto, aspetto. Allora, guarda qui. Mamma, mamma di Aprile, guardaci in tv. Oggi era fuori, quindi. Allora, quando stiamo troppo a guardare in avanti, bastano anche pochi secondi, spesso un minutino o due, spesso noi ci stiamo anche invece a vecchio tempo. Creiamo subito la compressione e poi abbiamo fatica a tornare e magari abbiamo già combinato un piccolo pasticcio. Allora, Armando, mi raccomando, magari guarda, insomma, cambia postura, cambia la televisione, cambia il disano in questo caso. Magari il letto e vedrai che risolverà. Allora, diamo dei consigli a casa, proprio per evitare di avere questo dolore. Che è forte, eh? Allora, usiamo il cellulare il meno possibile o quantomeno magari proviamo a usarlo ad esempio da sdraiati. Magari usiamolo un po' di più la sera quando siamo sdraiati, così sforziamo meno la cervicale. Un altro aspetto molto importante riguarda il cuscino stesso, perché il cuscino in questo caso deve essere molto basso. Eh, stiamo raggiando, usare un cuscino adatto, basso deve essere? Deve essere molto basso, esatto. Facciamolo vedere anche questo. Vieni giù un attimo di nuovo. Oggi facciamo un po' di ginnastica. Ma questo è cicciotto, non è troppo alto. Allora, questo è troppo alto, vedi che crea un rialzo eccessivo rispetto alla linea del busto. di gloria. Mentre invece dovrebbe essere un pochino più basso, più o meno a questa ceni ceni rilassata, a questa altezza. Ah, poco. E qua possiamo dormire in qualunque posizione, pancia sopra, sotto, questo non fa differenza. E scusa, e se vediamo la televisione e ci mettiamo un cuscino un po' più alto, non è meglio? No, è sbagliato. Ci viene il dolore al 100%. Ah, quello è proprio sbagliato. Esatto. E' quello che faccio io allora. Però è quello che purtroppo facciamo tutti. Fanno tutti. Perché c'è la pigrizia, no? Di cambiare posizione. Sì, perché basta che ci metti un cuscino e penso è risolto. E invece dopo questo incastro crea la compressione, quindi dà il problema. Ok, per cui evitate tutto questo. Grazie al dottor Gabriele Benedetti. Grazie a tutti.